Se ci sono donne che vorremmo festeggiare in questo 8 marzo 2021, funestato ancora tanto pesantemente della pandemia, al primo posto vorremmo mettere le tante figure femminili che abbiamo incontrato in questi mesi nei luoghi di cura, le tante infermiere, le dottoresse che abbiamo visto accanto ai primari in genere uomini, negli ospedali, al Delta, al Santissima Annunziata di Centro, a Sant'Anna, che a Natale ci hanno mostrato assieme i loro occhi stanchi sul volto coperto dalle mascherine, l'albero di Natale, a cui non hanno voluto rinunciare per immettere un po' di aree di famiglia nella solitudine di chi era ricoverato. Le os, le inservienti, le operatrici delle residenze che ospitano i nostri anziani, di cui si prendono cura spesso al di là di ogni dovere contrattuale. A Ferrara da luglio, la sanità ha, ai suoi massimi vertici, due donne, Paola Bardasi e Monica Calamai. Sono le prime da festeggiare in modo simbolico per il carico di responsabilità che si sono assunte al lato della nomina, a questa loro non facile carica. Accanto a loro mettiamo le giovani operatrici delle USCA, le infermiere che accolgono e vaccinano la popolazione in fiera a Ferrara, alla Pandurera a Cento e da oggi a Codigora, ad Argenta, nelle case della salute e negli spazi che incarnano le nostre speranze e il desiderio di vincere l'odioso virus. Sono le donne che da Ferrara, come nel resto del paese, testimoniano il valore del prendersi cura, che è qualcosa di più del curare e che dovrebbe esprimere oggi più che mai l'essenza stessa e la qualità degli ogni lavoro. In politica, in azienda, nelle redazioni, nei servizi, nei luoghi dell'arte e del divertimento, in fabbrica e nelle campagne. Dove lavorare dovrebbe finalmente equivalere a prendersi cura non solo della propria carriera, ma della comunità, dell'ambiente, dei clienti, del pubblico, dell'economia, dello sviluppo buono, sicuro e ordinato delle nostre città. Non prendersi cura che diventa emblematico quando è rivolto a chi è più fragile e vulnerabile e perciò diventa lavoro nobile, altruistico, difficile, purtroppo poco riconosciuto e spesso nell'opinione pubblica di serie B, sottovalutato e sottopagato, dato per scontato. Quello delle donne che si prendono cura della casa, della famiglia, dei loro bambini, dei loro genitori, in questi mesi impegnate a gestire una vita domestica nuova, non più ad aiutarle possono trovare la scuola e per chi ha figli o persone care affette da disabilità, nemmeno chi possa aiutarle per una parte delle loro faticose giornate. Molte di loro sono a casa perché hanno perso il lavoro. Dedichiamo loro questa giornata internazionale della donna nell'augurio di ricordarcene, anche quando questa tempesta sarà passata, con loro, ricordiamoci anche delle donne invisibili e preziose della ricerca, chiuse nei loro laboratori, ricordiamoci degli insegnanti, per la cura che si prendono dei nostri ragazzi, delle badanti che acudiscono lontano dalle loro famiglie, i nostri anziani. Dedichiamo loro questa festa, non solo perché se lo meritano, ma per la grande dignità con cui fanno un lavoro quotidiano, senza incomi, né incentivi e men che meno applausi, con cui comunque oggi, idealmente, vogliamo salutarli. Grazie.